Eccoci amici, bentrovati, bentrovati, consueto appuntamento con l'informazione dell'Indice di Telebrea sul canale 178, ricordate il nostro canale di trasmissione in tutta la Sicilia occidentale. Parleremo oggi di due flop, uno è quello accertato, anche se naturalmente la regione cerca di difendersi, della questione del sì, 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 che sarebbe a dire questa grande campagna pubblicitaria che ha fatto la regione in occasione del Covid. L'altro blef, secondo noi, ma anche secondo l'amico Peppe Lizio, che ne parlerà nella sua rubrica, è quello del ponte sullo stretto. Ma iniziamo con questa questione, sì, 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 lì, cos'è sì, sì, lì, è stata quella iniziativa voluta dall'assessore Maglio Messina, che non ci dimentichiamo, è anche quello del canale. Per lui spendere 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 milioni non è un problema, intanto che su soldi sono, sono soldi dei cittadini che magari, dici, si spendono bene. Allora, quando nacque questa cosa, dissi che era una grandissima strombolata pazzesca, perché non si conquista così un turista. Allora, cosa pensi che possa interessare a un turista che viene a spendere, che so, 500 Euro di volo, poi viene qua e gli regala una notte in più, che magari paga 60 Euro. Non è quello che fa venire il turista qua, perché ha una notte in più. Non ve lo dovete sognare questo. Il fatto che il turista venga qui e devi dargli le giuste attrattive dal punto di vista gastronomico, dal punto di vista dell'organizzazione, della sicurezza, dei trasporti, dei mezzi. Io arrivo a Catania, voglio andare a Taormina, come ci vado? Io arrivo a Catania, voglio andare a Ragusa, come ci vado? Gli aeroporti, tutte queste cose. Cosa volete che sia una notte in più in albergo? Dopo che hai speso 1.500 Euro per fare una vacanza, ti regalano 80 Euro. Non è quello che sei. E l'avevo già detto dal primo momento. Ora, grazie all'indagine dell'amico Mario Barrezzi, che non dimenticate che è stato qui nella nostra emittente per un paio di anni a lavorare, Mario Barrezzi ha scoperto che questi soldi sono stati praticamente buttati. Il ritorno è minimo, appena l'1,5% di quello che si voleva e che invece questi soldi sono stati spesi allo stesso modo, sempre con la pubblicità alle solite agenzie, ai soliti noti, sono stati dati soldi alle iniziative, tipo quella del cavallo e cose del genere. E questo è l'ennesima dimostrazione che il turismo in Sicilia è solo un bancomat. Cioè serve a prendere soldi e a dargli l'operazione Can, le grandi fiere, come si fanno cose straordinarie che poi non servono a nulla, senza mai un progetto che possa essere, come dico io, riscontrabile, che possa essere sostenibile. Io spendo questi soldi ma poi li guadagno, perché guardate, vi dico, guadagno come entrata del turismo, perché purtroppo, dico sempre io, il turismo è una scienza esatta. Se tu hai la giusta promozione, i giusti posti letto, i giusti servizi e hai investito in questo, la gente torna, non c'è bisogno di spendere milioni di euro in pubblicità. E lo si vede andando in giro in altre realtà locali, locali intendo dire, europee, dove c'è il boom. Oh, tra l'altro, e chiudiamo, quest'anno senza bisogno di Sisi Isili di spendere milioni di euro, la Sicilia è strapiena. Avete visto tutti i servizi con le reti nazionali, a Tormina, a Palermo. A Palermo non si trova una guida, perché i tour che si fanno nella Sicilia occidentale sono quotidiani. È stato Sisi Isili? No, è stato che la Sicilia già di per sé è uno spot pubblicitario. E tanta gente dice, voglio andare in Sicilia per vedere la Sicilia, non si preoccupano di avere una notte in più. Quindi su questo, ancora una volta, abbiamo sbagliato, ma ci vorrebbe qualcuno che lo va a dire, perché ora l'On. Messina sta bello seduto in Parlamento e nessuno gli dice, ma come cazzo le hai spese questi soldi? Bisognerebbe farglielo un po' uscire. È chiaro che la Regione si è subito premunita, ha mandato un comunicato, non è vero, noi abbiamo aiutato. Non è assolutamente così. Come al solito sono soldi buttati inutilmente dal turismo, perché il turismo, ripeto, dà soldi a tutti, ma poi il riscontro è solo grazie alla bravura degli operatori. E poi oggi c'era a Ragusa l'assessore Tamayo che aveva già disertato un incontro che era pronto qualche settimana fa e stasera è venuto alla Camera di Commercio. Allora io pensavo che venisse a parlare delle Camere di Commercio, ma non è così. È venuto a parlare di industrie, di incentivi per le aziende, soprattutto per quanto riguarda la green economy, perché ci sono questi soldi che bisogna spendere. Quindi c'erano molti imprenditori del settore, però la questione principale secondo me non è le aziende, è l'organizzazione e la governance. Allora, nel tavolo, come vedete, delle istituzioni, o meglio, dei padroni di casa, c'erano anche Nello Di Pasquale, c'erano alcuni deputati, ma c'era anche Nello Di Pasquale. Un momento, perché, noi Nello lo intervistiamo sempre, ma perché intervistiamo Nello Di Pasquale in questo caso? Perché Nello Di Pasquale era l'unico dell'opposizione. Mentre, giustamente, non era Mata, non era l'assenza, fanno parte del governo, quindi con Tamayo hanno naturalmente molto da condividere, compagnia bella, c'era anche Nello Di Pasquale. Dici, ma era il deputato locale. Non è così, Nello Di Pasquale, su questa vicenda, ha le idee ben chiare. Perché questo appuntamento? Sentiamolo.